Gianni Tauci, si è conclusa da poche ore la notte bianca dello shopping a Pescara, un grande successo come per la notte bianca? Sì, un grandissimo successo, abbiamo riconfermato, se non superato i numeri dell'anno scorso come presenze, abbiamo sicuramente superato il numero di eventi e di microattività svolte lungo tutto il percorso. Una zona che si è allargata, che ha dato motivo alla gente di vedere di tutto, dai concerti artisti di strada, laboratori, sfilate, ma soprattutto ha dato l'opportunità di fare shopping, entrare in quei negozi che hanno aderito e che con il sorriso da ieri pomeriggio hanno iniziato la loro attività. Incassi che abbiamo visto che sono stati interessanti e che hanno dato comunque quell'opportunità in più al commerciante, con Fesercenti l'obiettivo l'ha raggiunto anche quest'anno, anche perché fare rete con più di 200 operatori non è cosa da poco e siamo felici che i 200 operatori credano ancora in noi e sposino perfettamente il nostro progetto. Siamo anche in periodo di saldi, come stanno andando le cose a pescare provincia? Questo era proprio l'ultimo momento in cui potevamo far utilizzare correttamente l'opportunità ai consumatori di acquistare il saldo, perché oramai il saldo si è ridotto molto nel tempo, non più ha una validità di due mesi, ma realmente si ferma dopo un mese. Questo era l'ultimo giorno, l'ultima occasione per poter fare degli ottimi affari, naturalmente continuerà, però sta andando bene e l'interesse era quello di far acquistare ancora prima del termine del periodo dei saldi.